Rete della formazione ospite con il numero 77 Gianluigi Buffon Veloci! Veloci! Ti prego! Ciao a tutti ragazzi, sono CricriciGTD Il piccolo ninja di sempre E oggi siamo con Playmojito Trovate la differenza 5 secondi La differenza era Ho la nuova sedia Ho la sedia di Diablo Diablo In spagnolo vuol dire diavolo Esatto C'è anche la forma Con le colme Ma parliamo del nostro gameplay di oggi Faremo Inter vs Juventus In una modalità particolare Portieri in attacco E attaccanti in porta Come vedete nell'Inter Abbiamo in attacco Andanovic E Padelli Padelli è il secondo portiere dell'Inter E in porta abbiamo messo Lukaku Nella Juventus in attacco Chesni e Buffon E in porta Ronaldo Vedremo quindi come si comporta in porta Ronaldo E come si comporta in porta Lukaku Calcio d'inizio Ah naturalmente C'è sempre la modalità Palla matta Bella che fa Pum 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 Scusa Facciamo un bel applauso per l'ingresso in campo dalle due squadre Con il numero 9 Con il numero 9 Romelu Lukaku In porta Con il numero 37 Milan Skrini Ah c'è Ronaldo C'è Ronaldo Hai visto Ronaldo in porta Guarda Buffon in attacco Insieme a Di Bala Ronaldo in porta Ronaldo Con la divisa da portiere E guardate Lukaku arancione in porta C'è qui il primo Il Conte Ma il Conte è quello che danno sul Tg No quello è il Conte il presidente d'Italia E Mattarella è la Repubblica Allora chi è il primo ministro italiano E invece chi è il presidente italiano Scrivetelo nei commenti Io sono l'Inter E inizio da centrocampo Ecco Padelli con la palla matta Volevo dirvi che se vinco anche questa partita O sono fortissima oppure la nuova sedia è infortunata Vai compadelli tira Gol di Padelli Il secondo portiere dell'Inter segna il primo gol Alla Juventus Ah ma il Padelli Andanovic il primo portiere Padelli il secondo Czesni Buffon Buffon in attacco affiancato da Czesni Questo però chi è? Questo è Kulukeski Kulukeski tira E segna E al sera il vantaggio dell'Inter Ma chi è questo? Kulukeski ma non sapevo che giocava nella Juve Da quando è arrivato nella Juve? Boh Sembra Kuli Kulu Sembra Kulu Kulu Sembra Kulibali A centrocampo Andanovic Vai Czesni Kulukeski 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 Non ci credo 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 mai Kulukeski Il portiere Non ci credo mai Ecco che Scrigna 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 Sfregna Sfregna della strada Kulukeski Kurukeski aerosные Kulukeski Kulukeski 400 Kulukeski Si è arrabbiato se ha segnato l'Inter No Conte l'Inter o della Juve? Non lo faccio Cioè era Conte dell'Inter Conte del Milan Conte del Napoli Conte della Juve Ma Conte è di tutte le squadre Conte è l'allenatore di quale squadra? Non lo sappiamo più Ce lo ricordiamo Lukaku para Cioè una volta era del Milan Poi hai passato all'Inter Poi hai passato il Napoli Poi la Juve Adesso Chi è l'allenatore della Juventus? Era Era Conte Non lo so Mi scrivete nei commenti Chi è l'allenatore della Juventus? Era Conte mi sembra Conte? No Conte Mi sembra che è dell'Inter Non ci capisco più Eh ma poi era anche quello del Napoli E del Milan No va bene Mi concentro sulla partita Devo vincerla Ok potenza dribbling Ningolan Ma Ningolan Ma non era il caldo Naigolan Ningolan Naigolan Vabbè come si chiama Ma io so chi giocava al Cagliari Che ci fa nell'Inter Ningolan Forse abbiamo scambiato Bello Indranovic Ma dai Se no vai il true goal E Panelli tira alto E vai Ronaldo Ma dove vai Perché non lo porti in attacco Ronaldo? Perché non voglio rischiare come hai fatto Bastoni 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 passa Ah Questo qui chi è? Andranovic Andranovic Si porta lì Torni indietro No perde la palla Si gira Tira E para Ronaldo Ma dove siamo? 2 a 1 Cristiano Ronaldo in porta dalla Juventus Si sta comportando benissimo No malissimo Due gol si ha fatto fare Ah cioè è vero Ma ecco perché prendi tanti gol Hai Ronaldo in porta Che è troppo scarso Buffon Buffon in attacco Buffon si avvicina Tira Para Dai Riparti Riprende Dai Dai Non vuoi fare un gol Ma è la fegna che vi porta sfortuna Skrignar Passa lì Skrignar Che abbiamo qua? Ma dai Ningolan Testa gialla Ningolan Crossa Non c'è nessuno in centro Fine primo tempo E lì c'è il secondo tempo Skrigny per Buffon Ecco che Buffon Retropassaggio per Bonucci Skrigny Buffon No perché tiri? Buffon tira No Baby Tre Bravo Diablo Un gol da due punti di Buffon Grande Diablo Rete della formazione ospite Con il numero 77 Gianluigi Buffon Gianluigi Ah si Gianluigi Andanovic Per Padelli Ma Buffon Non è in pensione Non lo so Gioca ancora Buffon No no gioca Ancora un anno gioca Skrigny No Scleravo se ti dava un rosso E smultavo per sclerare Lukaku Corre Che cazzo Non lo so E' impazzito Potenza velocità Quindi decide di arrivare velocissimo Decide di superare tutto il campo da solo Gira di qua E poi Fa la finta di qua E vuole andare in porta Anzi vuole fare una cosa straordinaria Di dribblare anche Il portiere No Veloci 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 No 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 Veloci Veloci Ti prego No 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 grazie questo vale due punti tira no è gol un altro gol di Buffon grande diablo guarda guarda pure guarda guarda che gol guarda che gol straordinario non si capisce centro campo l'Inter riparte stiamo stra spaccando pressate pressate ok avanzate 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 avanzare avanzare dobbiamo avanzare avanza avanza clean avanzare avanzare difendere difendere e pressare difendere e pressare pressare vai pressare partire no pressare ok avanzare ora avanzare ora avanzare ok giallo rosso scrivete nei commenti se giallo è più giallo o fa rosso attenzione uh 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 un altro gol e lo fa tre gol da cinque cinque era cinque sei sette otto tre gol pallatutto pallatutto mia questa volta devo fare gol dai andanovic vai oh no bisogna fare piano muoversi si muove troppo veloce questa pallatutto no oh no non la voglio buttare fuori sennò sparisce non riesco a passare pallatutto è difficile comandarla ah vai 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 no me l'ha fregata l'ha fregata ok avanzare avanzare no dai dai no vai vai no 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 buttarla fuori non buttarla fuori te la butterò tutta fuori va bene che la prendo vedrai passaggio 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 tiro no non è valido dai dai che fette ok no finisce la partita vince la Juventus per 8 a 2 no ho vinto migliore attaccante in campo Buffon Ronaldo in porta è scarsissimo è scarsissimo Lukaku in porta se la cava se la cava non è grazie a tutti non è grazie a tutti non è grazie a tutti